La situazione a Cuma in questo momento com'è? Anche la vostra situazione di diocesi, che problemi incontra? Problemi economici, problemi legati anche al recupero dei materiali, non so, anche per aggiustare qualcosa, aggiustare le loro case e anche a volte problemi legati al mangiare. Alcuni prodotti ci sono, non ci sono, altri prodotti che mancano possono essere le medicine e negli ultimi tempi anche con la crisi del Venezuela, questo ha avuto dei riflessi poi anche su Cuba, soprattutto per quanto riguarda avere il petrolio, la benzina che vuol dire trasporti, che vuol dire non poter lavorare perché non possono uscire quindi con i trattori, che vuol dire anche l'elettricità, spesso manca l'elettricità questo vuol dire non poter lavorare, conservare i cibi, banalmente col ventilatore e non potersi un po' rinfrescare, soprattutto in questo periodo estivo. L'aiuto anche della comunità diocesana di Chiaveri attraverso le offerte, gli incontri, ecco come sta andando anche questo e come pensate poi di utilizzare anche certe offerte? Ci stanno aiutando, tante persone mi dicono sono per voi, sto pregando proprio per voi, per la missione e poi anche dal punto di vista proprio materiale, economico ci sostengono sempre, penso anche in questo periodo a tante comunità ma anche a tante persone, preti e laici che hanno lasciato la loro offerta, che va appunto su quello che c'è da spendere giorno dopo giorno oppure mettere a posto, mettere a posto le case delle persone, penso a un progetto a Manacas, la parrocchia dove abbiamo due case che però sono inagibili e sarebbero le opere parrocchiali di Manacas, quindi alcune offerte sono proprio destinate per riaprire queste case restaurarle per il catechismo, per incontri dei grandi e dei piccoli.